Che cos'è la grande armonia di cui parlate? È lo stato di coscienza che mette in equilibrio il bel tramonto con il terremoto, la dolce brezza con l'uragano, la gioia con la sofferenza e a mano a mano che il vostro sentire si amplia, vi fa vibrare all'unisono con il tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cos'è la grande armonia di cui parlate? È lo stato di coscienza che mette in equilibrio il bel tramonto con il terremoto, la dolce brezza con l'uragano, la gioia con la sofferenza e a mano a mano che il vostro sentire si amplia, vi fa vibrare all'unisono con il tutto.